Trasmissioni turbate, solo comunicazioni a corto raggio. Attenzione, corrente interrotta, backup attivato, sistema riavviato. Attenzione, ingresso in un'area contaminata. Attenzione, ingresso nella zona nera. Attenzione, ingresso in un'area. Attenzione, ingresso in un'area. Attenzione, ingresso in un'area. Sì, vabbè! Sfogliate! Sfogliate! Arrivo il giardino! Sfogliate! Sì! Per me un minuto! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, 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 sì.